ciao a piacere leon nel film interpreto gianluca un caro amico di enrico il protagonista gianluca rappresenta uno dei pochi spiragli di luce nel film è un bel set sono veramente contento dopo il mio scorso lavoro è passato un po di tempo dopo la terra dei figli e mi mancava proprio l'aria di sé sentivo proprio la nostalgia lavorare con paolo ti dico una figata paolo è grande si è creato con un bel rapporto dall'inizio dei provini c'è stato un bel percorso insieme che anche se breve si è solidificato in fretta il francesco ci siamo trovati immediatamente ci vogliamo bene sicuramente è una cosa che continuerà anche al di là del set ho sempre desiderato poter interpretare un personaggio in un film horror è successo poi quello che succederà lo vedrete